Palafavera è una piccola stazione invernale del compressore sciistico del civetta e del Dolomiti Superski. Dispone di due impianti, uno è lo ski lift utilizzato dai bambini, dai principianti ma anche dalle squadre che portano ad allenarsi i giovani atleti. La pista cornea è la pista più facile che scende dolcemente verso il rifugio. Invece la pista 2000 è la pista principale che viene utilizzata anche per gli allenamenti degli atleti. Accanto al rifugio oltre allo ski lift parte anche la seggiovia Pioda che porta fino ai 1917 metri di Col dei Dove, da qui partono la pista 2000 e la pista Duel. Sempre vicino al rifugio la pista da fondo da biathlon Pompeo Fattori che dispone di anelli da 5 e da 7,5 chilometri. Molto frequentato dalle famiglie è il sentiero che passa accanto alla pista da fondo. Le famiglie hanno diverse possibilità di svago in questo angolo di paradiso tra pelmo e civetta. Il rifugio Pallofavera propone una gustosa cucina di montagna e anche alcune camere. Vicino c'è pure un campeggio.